bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e io la fammi ragazzi oggi siamo qua su clash royale in questo pomeriggio perché c'è che hai messo in testa io sarò sempre regina però microfono mi sentite devo chiamare un attimo la neuro scusa pronto pronto vedo che mi hanno già risposto allora ragazzi no siamo qua con un chest opening interessante perché oggi ieri vi abbiamo fatto vedere i due bauli del clan 10 su 10 andati veramente ma tutto il mio ma lì so che voi volete quel super magico che c'è lì ma no oggi ragazzi apriamo il baule gigante che ce l'ha in basso e c'è un altro baule gigante delle missioni due e dico due bauli giganti senti io quasi quasi dai sì perché ragazzi ho anche da farvi vedere un fantastico deck con log rider da usare nelle sfide ma prima andiamo dentro a fare una bella partitella in ranked per avere più fortuna mi prudono le mani mi prudono siamo contro boss hog degli adults vediamo un pochettino come organizzarsi aspettiamo che apra lui molto tranquillamente apre con una coppia di arcieri rispondo con un cavaliere sulla sinistra per evitare qualsiasi attacco sulla sinistra di nuovo super split per lui con due luridi cavernicoli scelti uno a destra e uno a sinistra vedo che eh sì anche un principe nero eh lo so lo so che entra non entra molto bene guarda lo grinder dico l'occhi doghi ragazzi arriva sotto torre lo lasciamo andare andiamo lasciamo lasciamo due tre e sono quattro sessi quattro ita la torre va benissimo valchirione che sta per entrare andrei a counterarlo così ragazzi senza esagerare in realtà vorrei ma potevo anche non giocarlo va bene evitiamo più di una frullata sulla torre ci sta perché frulla la valchiria frulla pirla pirla esatto andiamo di nuovo a spingere dovrebbe giocare il luridi cavernicoli vediamo se la zecco non li gioca eccoli 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 gli ha giocati noi abbiamo sopra i pipistrelli infatti riusciamo a fermare l'attacco brava e andiamo anche a spingere ma io credo ma guarda i pipistrelli sulla torre o mio dio e va giù e va giù la tower non è finita aspetta 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 dobbiamo difenderci lui aprirà con degli arcieri dietro molto probabilmente ma noi andiamo a congelare il principe nero prima che possa essere veramente pericoloso lo andiamo a fermare attenzione secondo principe dall'altra parte proprio tranquillo andiamo anche sopra con i pipistrelli mettiamo un tris di goblin la vachiria va a frullare i pipistrelli fermano tutto e noi abbiamo il pricci il moschettiere al 9 ragazzi che sta sparando in maniera molto molto prepotente potrei già ponderare per un attacco sulla sinistra vediamo è proviamo a fare una spinta sulla sinistra ragazzi con il moschettiere ok dal largo spirito del ghiaccio centrale cavaliere ancora più centrale abbiamo accerchiato vai 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 la pavia ancora non ha capito cosa ho fatto però va bene quello è facile da capire sono mosse molto veloci solo guarda 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 ho messo i pipistrelli sopra ai bravo 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 non l'avevo visto il vachirione viene attenzione attenzione ragazzi vachirione super giocata super giocata mamma mia ma ha tirato giù la torre col vachirione col vachirione la torrona va bene va bene va bene giù 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 mi sono lasciato prendere dal fonico ragazzi dovevo fare le porcate guarda che la vado a perdere non è che la vado a perdere sono capace a perdere io questa partita aspetta 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 spera che sono capace a perderla non ci credo fermati vachiria ok molto bene la vado a perdere 4,98 ce la posso fare ce la posso fare basta una hit basta una hit dell'orgrider orca miseria poi ne ho chiuderla così con la frizza ne ho chiudere con la frizza eeeh voleva attirare mancava poco come solito il rock e il rock intanto abbiamo vinto zitti tutti i xyuder vince allora quale apriamo questo gigante o quello delle missioni delle missioni missioni mi apro io dai uno io e uno te questo lo apro io vediamo questo bauletto giant andiamo subito 124 di gol no no 224 di gol 4 schifo arrivano un agelo tra l'altro congelamento congelamento vediamo se abbiamo qualcos'altro di bello sono 23 scaricuccio non li uso non li uso perché li ho a livello 2 non li trovo principalmente non è finita 2,45 speed mi viene l'attacco di cuore mi viene non li posso vedere io questi coci arrivo non poteva darmi 39 firewall ho il numero 666 che mi perseguita da 2 settimane 666 porca di quella porca beh ragazzi il primo baule gigante niente mandiamo a potenziare gli scaricuccioli prima andiamo a prenderci la ricompensa così proprio violenta subito subito per il nuovo orello allora abbiamo un intacco intanto scusate ma chi è beh 4195 lo prendo il giocatore faccia parte di un altro clan Allora, che tristezza Andiamo a potenziare gli scaricucci Ragazzi che secondo me Fanno brutto Livello 3, livello 4 Livello 4 Ancora molto bassi Quanto tolgono? 33 danni al secondo Veramente ridicoli, non si può Però ragazzi volevo farvi vedere Questo deck giocato con le guardie Io l'ho visto giocare in ladder L'ho giocato ieri nel torneo L'altro ieri per voi nel torneo Mamma mia, mamma mia Lo andiamo a provare ragazzi Lo andiamo a provare Come faccio, come faccio Provo a mandare una amichevola nel clan Vediamo, vediamo se funziona Vediamo se qualcuno prende la amichevola Io mi scargarozzo un po' di acquetta Ecco l'hanno prisa Te con il leggendario Ciao Frank Ciao Frankuccio Siamo con Frank, buona fortuna Buona fortuna anche a te ragazzi Vediamo, vediamo, vediamo Ripriamo subito Subito col suino Subito col suino E qua diamo anche di Poison Molto bella Poison ragazzi Guardate, guardate subito I gravi danni Subiti dalla torre 1871 apri anche lui Bella questa porcheria Bella questa porcheria che ho fatto Ho fatto una porcata Ho fatto una porcata enorme Aspetta, aspetta Oh, che porcata Oh no, che porcata Eh, non ho capito per quel tronco Ho giocato male perché sono teso Sono teso Non c'è problema Non c'è problema 830 1790 Vai, dai che ce la puoi fare Dai, dai Vai, vai, vai che ci sono Ci sono Mi stai attrofizzando una spalla Aspetta, vediamo se riusciamo Con il boiazzo Ragazzi, attenzione al boiazzo Bene, godi 574 Adesso si parte ragazzi E adesso si parte ragazzi Andai a poisonargli Torre Princess Attenzione A quei luridi cavernicoli Brutta situa Oh Le bad situa Le bad situa Qua dovrei riuscire ad andare a fare Una gelatina Attenzione Pronto Wow, wow, wow Fermi, fermi, fermi Non è che culo È che ho sbagliato a giocare Gli va bene a Frank Ragazzi, te che buono Sono io Gli andoli sono per te Gli andoli devono essere assolutamente Per l'oxuterino 5 6 Andiamo a spingere Andiamo a spingere ragazzi Andiamo a spingere Con Caballeros Domatore di cinghiali Vediamo se ce la fa il suino A entrare Bene che missa la Fireball Andiamo col tronco Oshimi Oshimi Shami Il tronchino Il tronchino Ragazzi Andiamo a tirare di giù la tower Molto bene Molto bene Le guardiole Ah È riuscito a tirare Con la Princess E qua è brutta Perché mi gioca centrale Lui sicuro I luni di cavernicoli Io devo sbrigarmi col Però guarda le guardie Tanta roba le guardie ragazzi Tanta roba Fanno veramente Veramente male Qua Andrei Con il Vortex A portare indietro Log Rider E a sfruttare A pieno La Shadel Boy Che può ragazzi Veramente vanificare Un attacco Che sarebbe stato Altrimenti Molto molto problematico Vai che andiamo Vai che andiamo Pensavo me li giocasse Più indietro Pensavo me li giocasse Centrale in realtà Bene così Anche col tronco A spostare Ragazzi Wow Super cattivo Super cattivo E qua non lo so Non lo so Questa Poison Andiamo un attimo Non è buttata È per fermare La sua Princess È per fermare La sua Princess Ma non credo Sia possibile Fare nient'altro Bruttissima Bruttissima 300 Riusciamo a salvarlo A 300 Vai 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 Oh Bruttissima anche qua Però buono Di nuovo Il tronchetto Ragazzi 1310 È finita Forse no Sì Credo sia finita Però forse no Aspetta Log Rider Rimane a 36 Riusciamo a fermarlo Di nuovo Ragazzi Oh Ciao Aveva il fulmine Bravo Frank Bravo Frank Grande 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 Non era male Non era comunque male Ragazzi Non dà Riggi Arriva l'acqua Quindi noi adesso Si apri un baule Vai vai Andiamo ad aprire Era buono Ve lo farò vedere meglio In live Questa sera Vai 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 Secondo E ultimo Baule gigante Vai Trovami la leggendaria 924 Di gold Molto bene Brava Devi urlare lì Un cannone Di sardegna Non ha un sardo Ragazzi Attenzione 111 Candy Ma trovami quelli normali 134 Destre Viene là 72 reti Da battaglia Una cacca di carta Più bella Va bene ragazzi Va bene Abbiamo trovato assolutamente Niente di buono Neanche in questo gesto Ma sono sicuro Che in quello Che in quello Che arriverà Domani Ragazzi Sarà più interessante C'è dalle carsi Baffi C'è dalle carsi Beh ragazzi Noi vi ringraziamo Davvero tantissimo Grazie Per esservi divertiti Prima di salutarvi Urca vacca Vi dobbiamo ricordare Vero vero Se vi è piaciuto il video Mettere sempre un bel like Vero vero Iscrivervi al canale Iscrivetevi ragazzi Nostro canale Un po' mio Si è preso tutto lei Io non ho mai firmato niente Lo sto facendo così Ah era questa Di attivare sempre la campanella Per essere aggiornati Su tutto quello che facciamo Grazie a tutti ragazzi Ciao ragazzi Ciao